Ehi là, benvenuti in un nuovo video. Questa volta vediamo quali domande fare a un'intelligenza artificiale per vedere se è realmente intelligente. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologia che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram, Te Consapevole per quanto riguarda la tecnologia e Te Consapevole Crypto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, abbiamo sentito di tante intelligenze artificiali che stanno uscendo ultimamente, la più famosa ovviamente è ChatGPT, tuttavia questa intelligenza artificiale non funziona sul nostro computer, quindi significa che tutte le cose che andiamo a scrivere di fatto vengono interpretate da un computer gestito da terze parti. La situazione si sta evolvendo veramente rapidamente, nel senso che già adesso ci sono intelligenze artificiali che su alcuni aspetti sono diciamo equiparabili a ChatGPT e questa tipologia di intelligenza artificiali chiamate appunto LLM, quindi quelle basate su grandi modelli di linguaggio, alcune di queste già adesso è possibile farle funzionare sui nostri computer. Una delle ultime che si sta comportando abbastanza bene è questa MPT 7B. Questa intelligenza artificiale è anche utilizzabile a scopi commerciali, a differenza delle altre che spesso sono senza scopo di lucro come utilizzo. Che dire, non starò qui a farvi tutti gli esempi, vi faccio vedere dei modi interessanti per interagire con queste intelligenze artificiali. Se voi integrate appunto i convertitori da parlato a scritto e da scritto ha parlato, di fatto potete interagire con queste intelligenze artificiali come se fossero degli assistenti virtuali di qualsiasi tipo. E su questo argomento ho fatto dei video approfonditi proprio sulla Te Consapevole Academy. Giusto per farvi vedere, io adesso ho le mani libere e da questo momento in poi io parlo e questa cosa viene trascritta nel campo di testo. Non ho un computer velocissimo quindi ci vuole un po' di tempo. Ok, ho aspettato anche i 3 secondi di timeout. Questo per farvi capire che... Ok, dovrebbe essere andato in timeout. Direi di sì. Come vi dicevo questo tipo di trascrizione viene fatta con Whisper che è un'altra intelligenza artificiale che converte il parlato in testo e l'aspetto interessante è che viene fatto offline. Quindi se io avessi quest'altra intelligenza artificiale che però richiede la GPU sul mio computer potrei interagire senza dipendere da internet. Quindi Whisper fa la trascrizione da voce a scritto. Mosaic ML MPT7B fa l'interpretazione del testo e dopodiché possiamo anche usare un'altra intelligenza artificiale che ci permette... scusate... che ci permette di leggere la risposta. E da questo momento in poi io parlo e questa cosa viene trascritta nel campo di testo e non ho un computer velocissimo quindi ci vuole un po' di tempo. Ok, ho aspettato anche i 3 secondi di timeout di questo per farvi capire. Ok, quindi mettendo insieme queste 3 intelligenze artificiali riusciamo a interagire con una macchina come si interagisce con una persona. Appunto ci sono ancora dei dettagli che magari non tutti hanno una GPU potente. Di fatto queste cose già esistono, quindi se dovete cambiare computer pensateci. L'altra questione che volevo affrontare era quali domande fare a queste intelligenze artificiali per vedere se effettivamente sono intelligenti. Ho fatto il test con ChatGPT. Queste domande che vedrete spesso non vengono risposte correttamente da MPT, però ci sono altre intelligenze tipo Vicuna 13B che invece è in grado di rispondere un po' meglio. Facciamo una prova. Questa domanda l'ho fatta anche a ChatGPT. Qual è stata la prima capitale d'Italia? Ok, qui vedete la risposta è Roma. In alcuni casi si riesce a farla ragionare mettendo Unita. Non abbiamo la risposta diciamo corretta da Firenze. Questo per farvi capire che queste intelligenze artificiali open source in alcuni casi comunque si riescono a utilizzare abbastanza bene dando un po' più di dettagli. Comunque vi dicevo alcuni test che è interessante fare con queste intelligenze artificiali e vedere quali tipi di intelligenza effettivamente hanno. la prima che non credo sia gestita da quell'open source e diciamo intelligenza diciamo matematica in questo caso viene data un'equazione e effettivamente è in grado di ottenere il risultato corretto. le altre intelligenze artificiali spesso svarionano oppure danno dei numeri a caso oppure ripetono dei numeri che trovano nella domanda. l'altra cosa interessante e sono gli indovinelli per esempio più la tiri più si accorcia che cos'è la risposta diciamo non è quella che mi sarei aspettato però diciamo prova a dare un certo tipo di risposta. Io non avrei detto questa. altra intelligenza interessante è vedere come questo tipo di apprendimento statistico effettivamente funziona. Per esempio questa frase traduce in inglese vado a pesca con una pesca viene tradotta vado a pesca con una canna da pesca in inglese quindi in realtà non ci traduce letteralmente quello che andiamo a scrivere. Anche se vi devo dire che in alcuni casi ho ripetuto questa domanda e veniva tradotto correttamente. Quindi anche questo è un altro test per vedere quanto sono intelligenti le intelligenze artificiali. Come vi dicevo in questo caso ho fatto anche qua la domanda sulla prima capitale d'Italia e la risposta è corretta. La prima capitale d'Italia è stata Torino nel 1861 dopo l'unità d'Italia Torino fu scelta come capitale del regno d'Italia fino al 1865 quando la sede del governo fu successivamente spostata a Firenze e successivamente a Roma nel 1871. Ok. Altra domanda tra bocchetto ma interessante per vedere se si tratta di un'intelligenza artificiale censurata oppure no è quella di chiedere delle cose così un po' improprie per esempio come si fa una molo. Le intelligenze artificiali censurate vi danno una risposta diciamo di questo tipo che di fatto non rispondono ma il fatto che non rispondono non significa che non sono a conoscenza. Infatti come ho fatto vedere anche in altri video che non sono su YouTube alcune intelligenze artificiali sono a conoscenza di queste informazioni e ve le dicono anche senza dover fare nessun giro di parole. Dopotutto sono informazioni che si trovano su internet. Qua altri indovinelli. Se la butti è perché ti piace e cos'è? Ovviamente io stavo pensando alla pasta in questo caso invece mi è stato detto la pietra che in sostanza se tiro la pietra è perché mi piace per divertimento tirarle. Ok. Non è quello che mi aspettavo però una risposta verosimile. Altra cosa interessante è se andiamo a chiedere delle cose molto specifiche che magari non sono di diciamo molto con molta letteratura dietro spesso si trovano delle risposte che sono altamente verosimili ma sbagliate. E infatti se chiedete chi ha scritto la canzone e quelli che ben pensano ci viene detto che è stata scritta da Francesco del Gregori e ci dice anche l'anno, l'album eccetera. Peccato che non è così. E' interessante vedere come queste allucinazioni accadono soprattutto su dei temi dove appunto c'è poca letteratura in merito e in alcuni casi viene sostituito il cantante corretto con magari un altro cantante più famoso. Questa cosa succede anche con gli attori quindi non è un complotto contro Frankie High Energy. Altra domanda interessante sempre sulla questione delle cose controverse e capire quanto un'intelligenza artificiale è woke nel senso che in alcuni casi chat GPT è stata censurata perché dava dei consigli diversi a seconda del caso tu chiedevi consigli per un uomo bianco o consigli per un uomo nero e quindi hanno deciso di censurare quindi non dare più consigli su base etnica delle persone. E una cosa simile succedeva anche sul fatto se un uomo può rimanere incinta. In alcuni casi veniva detto se l'uomo non era biologico e altre cose adesso invece sembra diciamo più diciamo normale nel senso che comunque dice chiaramente che gli uomini non hanno l'utero quindi non vede più la questione uomo donna come una cosa psicologica ma la vede come una cosa biologica. E qua appunto non vorrei aprire parentesi troppo lontane. Altro utilizzo molto interessante dell'intelligenza artificiale impressionante è quello della capacità di scrivere codice. Questa cosa potete farla anche con quelle open source tipo Vicuna è in grado di fare un risultato simile quindi crea un file docker compose da questo comando e effettivamente ci tira fuori un file docker compose che corrisponde al comando sopra e ci dice anche come lanciare questo comando quindi è utile se volete imparare nuove cose sicuramente questa tecnologia vi aiuta. Altre cose diciamo un po' più strane ma sempre sulla programmazione potete chiedere appunto il fatto di fare un programma che aggiunge una lettera H alla fine di ogni parola in modo alternato che finisce con una vocale e nonostante che scrivete in italiano nonostante che mettete delle condizioni strane quindi deve sapere cos'è una vocale eccetera vi tira fuori del codice verosimile e ve lo scrive anche in altri linguaggi di programmazione quindi è utile se volete programmare probabilmente non vi risolve tutti i problemi di programmazione ma a livello di funzione obiettivamente l'intelligenza artificiale ha cambiato veramente il modo di lavorare. L'altra cosa interessante su questi apprendimenti statistici è che in alcuni casi risponde in modo strano nel senso che non si capisce mai se effettivamente capisce la domanda oppure ha in memoria un qualcosa di verosimile e questo qui è un esempio ho un arancio, una banana e un limone quanti frutti gialli ho? e mi dice hai due frutti gialli l'arancio e la banana vai non c'è più voglia di parlare mentre l'arancio è prevalentemente arancione ha una sfumatura di giallo e può essere considerato un frutto giallo quindi tra l'arancio e la banana hai due frutti gialli e il limone d'altra parte è generalmente di colore giallo ma non è incluso nella tua lista di frutti cioè per qualche strana ragione mi dice che il limone non è presente nella mia lista di frutti eppure io ce l'ho qua il limone ho scritto arancio, banana e un limone qui mi dice che l'arancio e la banana sono gialle e perché l'arancio può avere una sfumatura gialla cioè mi tira fuori queste supercazzole così un po' strane in questo caso la risposta è corretta ma la motivazione è sbagliata perché ovviamente i frutti gialli erano il limone e la banana e invece qua me l'ho giustificata in modo diverso quindi mi raccomando l'altra cosa interessante è appunto vedere appunto come comprende effettivamente la realtà ho chiesto Giorgio esce dal bagno col naso tappato come mai e di fatto non prende in considerazione il fatto che ci sia la puzza nel bagno che probabilmente è la cosa più umana che uno penserebbe in questa situazione dice cambiamenti di temperatura, umidità e quindi causato la congestione nasale ho fatto un'altra domanda simile sempre con Giorgia che esce dal bagno con una striscia marrone sui pantaloni cosa sarà successo e in questo caso però ci dice che potrebbe essere un problema di igiene personale e qui obiettivamente ci fa capire che in alcuni casi non si sa se effettivamente ragiona oppure ha dei dati statistici all'interno dei dati comunque ci dà una risposta che sia abbastanza credibile e verosimile in base alla situazione descritta altra domanda curiosa che però sicuramente l'avrà scopiazzata da qualche dato presente nel dataset è scrivi delle domande interessanti che si possono fare a un'intelligenza artificiale e qua appunto sono così domande un po' filosofiche futuro della tecnologia sfide globali cambiamento climatico eccetera niente queste erano le mie domande preferite per scoprire le migliori intelligenze artificiali open source e non è un momento veramente di tanto fermento quindi è impossibile star dietro a tutte le evoluzioni tuttavia se uno si prepara a queste domande di logica, comprensione della realtà programmazione eccetera si può veramente capire cosa è in grado di fare un'intelligenza artificiale però mi raccomando attenzione alle allucinazioni perché in alcuni casi sono talmente verosimili che vi potrebbero trarre in inganno questo è tutto come sempre lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti ciao a tutti